Domenica 20 Ceppi, Cerno Avellino, Avellino in trasferta, la squadra di Rastelli deve dare il massimo per tornare subito alla vittoria. Lo impone la classifica, siamo lì lì con la zona play-out ma pochissimi punti dalla zona play-off. Questo testimonia il fatto che è un campionato equilibratissimo. L'Avellino e il Reduce, lo sappiamo, dalla sconfitta di misura contro Giuliano in casa, il partenio Lombardi in uno stadio mestamente vuoto, deve vincere assolutamente contro il Picerno in trasferta per riprendere la corsa. Occhio anche a quella che la Coppa Italia, andando avanti, ci sarebbero ghiotte opportunità di posizionarsi, comunque terzi in classifica per quanto riguarda i play-off. La speranza è che si torni subito alla vittoria. Ci sarà qualche cambio, sicuramente informazione, grandi attese però per questa quattordicesima giornata con un forte in bocca al lupo al bianco-verdi. Ovviamente lo rinnoviamo anche da qui, da TV7.